Oggi è il 28 ottobre 2023, fanno tra i 10 e i 16 gradi, è dell'anniversario di quando nel 1492 Cristoforo Colombo arrivò a Cuba pensando di essere arrivato in Giappone. Capita a tutti di prendere qualche granchio. È romano, ma ti fa la Juve? Uno dei suoi video musicali fu girato da Spike Lee e da un piccolo cameo nel film Amar Cord di Federico Fellini. No, non sto parlando di Luriz, stavolta sto veramente parlando di Eros Ramazzotti che oggi compie 60 anni. Tanti auguri, tanti auguri anche a Bill Gates e a Giulia Roberts e buon sabato a tutti voi birichini, comportatevi bene.